Musica Gruppo medico d'archivio Diagnostica per immagini ambulatorio medico specialistico Sedi a Giulianova e a Teramo Un sogno promozione inseguito dall'inizio della stagione Una cavalcata trionfale che ha lasciato scampo a pochi commenti La Civitanovese con tre giornate d'anticipo è la regina del campionato di eccellenza Marche 2015-2016 Titolo che arriva nell'anticipo del salvo d'acquisto contro il Loreto In una gara che avrebbe potuto scrivere la storia dalla parte opposta Ovvero a salvezza per il team di Moriconi In una giornata perfetta dal punto di vista meteorologico e delle condizioni del terreno di gioco Sorprende la strepitosa cornice di pubblico sia da una parte che dall'altra Partita che per piccoli problemi tra la tifoseria di Federo Sublu e la dirigenza locale Inizia con 30 minuti di ritardo Partita perlomeno nei primi minuti che vede prevalere il Loreto per gioco ed intensità Anche se la prima chance capita a Latarulo con salvataggio sulla linea di Camilletti Al ventesimo l'episodio chiave che dà una svolta al match Micolucci effettua un suicida retropassaggio per Mazzoni L'estremo della civita novese alza uno strano campanile su cui si fionda Chedira Il quale riesce a servire Moriconi al centro dell'area Rinviene Mazzoni commettendo anche fallo ma scoppa Con un potente sinistro in diagonale mette tutti d'accordo La squadra di Paci è sotto per 1-0 La reazione rosso-blu tarda ad arrivare ma dopo 6 minuti è ancora Latarulo il più pericoloso dei suoi Con il colpo di testa bloccato da Tomba Il Loreto rimette il muso in avanti con il calcio di punizione di Moriconi Che nonostante un'insidiosissima traiettoria fa terminare la palla fuori di centimetri La civita novese non ci sta e affretta di parigiare i conti Cross da fermo di Rafa Bondi col sinistro Tozzi Borsoi con la testa, Tomba respinge Ma poi lo stesso numero 9 devia da pochi passi e realizza la rete del pareggio 1-1 al 43esimo Un minuto più tardi c'è tempo per un'altra percussione di streccioni Palla in mezzo che dire ai Moriconi si ostacolano Ciccando la conclusione e divorando probabilmente un gol fatto Si va a riposo dunque sull'1-1 Il secondo tempo si apre sulla falsariga del primo Ovvero il Loreto a crederci di più Torre di Garbuglia che aggiusta i giri alla conclusione di streccioni Il quale allarga troppo il piattone destro e la sfera termina in out Nella civita novese pesa tantissimo l'assenza di Gadda a metà campo Dove manca un po' di qualità Bisogna attendere il diciannovesimo Quando Shiva servito in profondità impegna Tomba A sua volta bravo a dire di no Un minuto più tardi può cambiare radicalmente la gara Quando sale male la difesa di casa Tozzi Borsoi ne approfitta e vola verso la porta Tomba a discrezione del direttore di gara Commette fallo e viene espulso Rigore che potrà essere decisivo per le sorti del campionato Entra strappato già protagonista sulla parata Contro il Montegiorgio del penate di Marco Aldi Ma lo stesso Tozzi Borsoi è freddissimo e abile nel trasformare dagli 11 metri la rete del 2-1 Risultato ribaltato per la civita novese Di lì in poi il nulla cosmico per 10 minuti Fino alle due occasioni per chiudere i conti di Shiva La prima con tiro fuori La seconda ben neutralizzata in corner da strappato I minuti finali sono solo una pura formalità Tra i continui incitamenti delle due tifoserie Ma al triplice fischio soltanto il popolo rosso-blu può gioire Il Loreto, che pure avrebbe meritato qualcosina in più ai fini della gara Cede il passo alla capolista Inizia invece la festa in casa della civita novese Che vince per 2-1 Ma soprattutto chiude i conti per il discorso campionato Con tre giornate d'anticipo